Buongiorno a tutti. Allora filpettina d'ordinanza da brr che freddo che fa perché proseguiamo con lo sci. Dopo aver parlato delle femminucce che il 27 di febbraio hanno fatto la discesa libera, parliamo dei maschietti che il 27 febbraio hanno fatto lo slalom gigante a Bansco. Le ragazze erano in Val di Fassa, i maschietti erano a Bansco. Quindi andiamo bando alle ciance, ciancio alle bande perché sennò facciamo notte. Andiamo a vedere come è andato lo slalom gigante maschile di Bansco partendo dalla prima manche. Dopo una bella prima manche abbiamo uno scatenato febbre al primo posto. Si vede che l'oro sia nel parallelo che appunto in gigante agli scorsi mondiali lo ha caricato a molla ed è in uno stato di grazia pazzesco e si trova appunto al primo posto davanti a Nuzubcic che è solo lì pronto a ghermirlo a 11 centesimi e a un pinturo a 23 centesimi. Oltre il mezzo secondo a tutti gli altri a partire da Christoffersen. Per quanto riguarda gli italiani, NCS non ci siamo. Sono quindicesimo di Aliprandini che ha commesso un errore facendo già un mezzo miracolo a rimanere in pista. Praticamente si era sdraiato, era col gomito già per terra. Avete presente i motociclisti quando toccano? Ecco lui era solo che era sugli sci sdraiato. È riuscito con un colpo di reni a tirarsi su però ha perso un botto di tempo ed è infatti solo quindicesimo. Al diciassettesimo abbiamo Borsotti che invece ha fatto solo degli errori. Al ventiseiesimo Zingerler, al ventottesimo della vite che si è qualificato per la prima volta per una seconda manche e al trentesimo Tonetti che ha l'obbligo di recuperare qualche posizioncina. Comunque la classifica dopo la prima manche dei dieci, dei primi dieci, vede Fevra al primo posto, Zubcic al secondo, Pinturo è terzo, Christofferson è quarto a 68 centesimi, visto che i primi due vi ho già letto a quanto erano, Breinsteiner è quinto a 80 centesimi, Oedermatt è sesta a 1,09, Smith è settimo a 1,35, Megliarle ottavo a 1,40, Feller è nono a 1,45 e Kranich è decimo a 1,55. Inizia la seconda manche e il primo a scendere è il nostro Riccardone Tonetti, detto Tonno, che poi non ho capito perché dare del tonno a uno sciatore, che proprio non c'entra niente, dagli del tonno a un nuotatore, è vero che si chiama Tonetti, però a chiamarlo Tonno. In ogni caso la sua operazione oggi è recuperare le posizioni. Il suo tempo finale è 2,24, 19, ma ha fatto, ahimè, un errorino quasi alla fine, perché sennò magari qualche posizioncina in più la poteva recuperare. Per ora ne recupera una perché adesso tocca al nostro Filippo Della Vite, classe 2001 e prima qualifica ad una match, ad una seconda match di Coppa del Mondo. Come dicevamo è 28esimo e ha un vantaggio di 7 centesimi sul compagno di squadra. Mi consente un'eprema di grande libidine perché il nostro simpatico Della Vite ha fatto la gara Della Vita e si è portato al primo posto con ben 84 centesimi di vantaggio. Magari, magari riesce entrare nei venti, che sarebbe già tanta tanta roba. Tocca a Zingerle, 26esimo dopo la prima match e 12 centesimi di vantaggio sul suo compagno di squadra. Dopo il secondo intermedio in cui aveva incrementato, commette un errore e termina al terzo posto a 65 centesimi. Do va bene. Tocca ad Adaline, 24esimo dopo la prima match e vantaggio di 36 centesimi sullo sciatore italiano. Mi riconsente un'eprema di anche questa ma di doppia libidine con i doppi frontiocchi perché si prende il primo posto questo Adaline, sciatore slovino se non sbaglio, con un vantaggio di ben 76 centesimi e attenzione che questo potrebbe entrare nei 15 e se gli va di fortuna, diciamo, potrebbe entrare anche nei 10. Vedremo. A parte gli scherzi, zitto zitto cacchio cacchio, il buon Adaline sta recuperando posizioni perché adesso tocca al nostro Giovanni Borsotti. Vantaggio di 91 centesimi di 17esimo dopo la prima match, purtroppo dopo un buon inizio qualche errorino qui, qualche errorino là ed è solo settimo a 1 e 22. N, C, S, non ci siamo e intanto il simpatico della vite recupera, 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 volta ad Adaline anche lui. La classifica dopo la discesa degli sciatori dalla trentesima alla sedicesima posizione. Vedono sempre, vede sempre, non vedono, vede sempre Adaline al primo posto, Redemus è secondo, Luis è terzo, della vite è quarto che quindi in ogni caso entra nei 20, sarà diciannovesimo male che vada, quindi dalla ventottesima alla diciannovesima posizione è grande di Bidine, Adaline ancora meglio perché male che vada sarà, ah no, sarà sedicesimo quindi per ora ne recupera 8, però mi sa che ne recupererà ancora. Al quinto posto abbiamo Zampa, al sesto Part, al settimo Gino Caviezel, all'ottavo il nostro Borsotti, al decimo Windistad, al nonno scusate Windistad e al decimo Bissig. Per quanto riguarda gli altri, dodicesimo è Zingerle che quindi male che vada perde una posizioncina da 26 a 27 cambia poco e lo stesso vale per Tonetti che male che vada sarà ventottesimo, da trentesimo a ventottesimo sì, hai migliorato ma minga troppo come si disamiranno invece della vite di Bidine. Ma intanto adesso tocca al nostro Dea Liprandini, quindicesimo dopo la prima Masch, ultimo dei nostri alfieri, diciamo così che oggi hanno un attimino toppatino a parte della vite, vantaggio di 1,04, stare almeno davanti ad Adaline sarebbe una cosa buona e giusta come diceva qualcuno, ma purtroppo è solo quinto, addirittura 95 centesimi, troppi ancora gli errorini fatti da Dea Liprandini anche se non al livello della gara della prima Masch. Però è quinto, addirittura è dietro a Della Vite che ridendo e scherzando è il migliore dei nostri sciatori nella gara che si è disputata sabato. È per lui una bella soddisfazione. Prima volta che ti qualifichi in seconda Masch, migliori degli azzurri, che ce n'erano ben altri. Quattro, sì, sì, uno, due, tre, erano in cinque, quindi ce n'erano altri quattro. E lui sì, grande lì Bidine. Comunque adesso tocca a Favrò, tredicesimo dopo la prima Masch, vantaggio di 1,34 su Adaline. Alla fine, con gran fatica, e con gran fatica lo porta a casa al risultato. Era con gran pena le recagiù, erano le nostre Alpi per ricordarsi. Le Alpi ce n'erano e con gran pena le recagiù per fare tutti le... e invece lui con gran fatica si prende il primo posto. Con soli 20 centesimi di vantaggio. Pensate, ha perso un secondo e quattornici da Favrò, da, scusate, da Adaline. Favrò ha perso un secondo e quattornici da Adaline. Però alla fine almeno si conferma al tredicesimo posto, poi magari recupera anche qualcosa. E infatti recupera qualcosa perché adesso tocca a Manuel Pazzarello Feller, vantaggio di 55 centesimi sul francese nono dopo la prima Masch, quindi il francese, male che vada, entra nei 10. Una gara, come si dice, in gestione e alla fine si accontenta di stare davanti per soli 14 centesimi, quindi Manuel Feller, male che vada, conferma la sua nonna posizione della prima Masch perché è primo. Quando mancano i migliori otto della classifica, della prima Masch, la classifica in questo momento dice che Feller è primo, Favrò è secondo, Adaline è terzo, quindi Adaline, male che vada, ha recuperato già 13 posizioni, grande libidine, al quarto c'è Sfars, al quinto c'è Cragne, al sesto Murisier, al settimo a pari merito ci sono Radamus e Luiz, al nono c'è Della Vite e al decimo c'è De Aliprandini, quindi De Aliprandini, male che vada, sarà 18esimo e De Aliprandini, male che vada, sarà 17esimo e quindi male che vada, ha già recuperato 11 posizioni. Ed è grande, libidine, 11 posizioni recuperate, è la prima volta che tu ti qualifichi per una seconda Masch. Per quanto riguarda gli altri, Borsotti è 14esimo, sarà 22esimo, male che vada, perde 5 posizioni Cella, Zingerle temo che sarà 27esimo, salvo che qualcuno burli già, quindi perde una posizione, e Tonetti sarà 28esimo, perché adesso è 20esimo, quindi ne recupera 2. proseguiamo con la gara, perché adesso vediamo quali sono i primi otto, vado a recuperare la classificona, come sempre, mi dimentico sempre di prendere la prima, come si diceva una volta, prendi la prima, prendi la dopo, eccola qua. Allora, Mayard non gliela fa e finisce dietro, Smith non gliela fa e finisce dietro, quindi adesso tocca a Oedermann, sesto dopo la prima Masch, vantaggio di 36 centesimi su Feller. Una buona gara, anche se si deve accontentare di stare davanti, di soli 11 centesimi. E visto e considerato che Oedermann si sta giocando, se non era la Coppa Generale, oltre che la Coppa di Specialità con gli altri, avrebbe dovuto fare un attimino meglio per recuperare qualche posizioncella. Vedremo. Adesso tocca a Brensteiner invece, quinto dopo la prima Masch, e vantaggio di 29 centesimi su Oedermann, uno sciatore che non ti aspettavi così in alto, ma che sta crescendo anche lui. Mi consente, come detto prima, una gran bella gara anche di Brensteiner, che si prende il primo posto, ma soprattutto incrementa il suo vantaggio portandola a 59 centesimi, quindi un bel avviso agli altri che gli sono abbastanza vicini. Quindi più che altro a Christofferson, perché Zupci su di lui ha ben 57 centesimi di vantaggio, quindi è tanta roba. E Pintourot, ah no scusate, Pintourot a 57 centesimi e Zupci ne ha ben 69. Quindi, però Christofferson è solo a 12 centesimi, è avvisato che deve scendere giù bene se vuole stare davanti a Brensteiner. E infatti Pintourot gliel'hanno gufata, perché hanno detto, ma Pintourot è uno sciatore che è quarto, però in questo momento può arrivare dal primo al ventesimo posto. Ecco, è andato quasi vicino al ventesimo posto perché è finito dietro in maniera esorbitante, se mi passate il termine. Quindi, per ora, Brensteiner resta al primo posto. Tocca a Pintourot, terzo dopo la prima marche, vantaggio di 57 centesimi appunto sullo sciatore austriaco. Purtroppo perde il bastone praticamente al primo intermedio, quello destro se non sbaglio, e arriva sul traguardo al secondo posto a 13 centesimi, ma già ha fatto un mezzo miracolo perché scendere giù per due terzi di slalom gigante con un bastone solo già è tanta roba. Tanti a volte si fermano e bollano. Lui invece ci ha provato lo stesso, poteva rischiare una figuraccia, invece alla fine è secondo e però Brensteiner sale sul podio. Però adesso vediamo se sarà terzo, secondo o primo, perché tocca a Zulcic, secondo dopo la prima marche e vantaggio appunto di 69 centesimi sull'austriaco. Bellissima gara, anzi, ci vuole. Mi consente, anche Zulcic mi fa una ghera di grande libidine perché si prende il primo posto con ben 93 centesimi di vantaggio e gli dice al simpatico Fevre adesso battimi perché io ho fatto una ghera che devo dire mica da ridere. Adesso vediamo, vediamo tocca a Fevre il campione mondiale della settimana scorsa, oro olimpico, oro mondiale non olimpico, le olimpiadi ci sono l'anno prossimo. Quest'anno ci sono stati appunti mondiali. Quindi tocca a Fevre che si è portato a casa due begli ori, uno il gigante e uno nel parallelo. È primo, ha 11 centesimi di vantaggio su Zulcic, ma c'è poco da gestire perché Zulcic è andato giù a cannone e quindi o va giù a cannone o se no deve cercare di stare sotto i 93 centesimi per prendersi almeno un secondo posto. E alla fine si deve accontentare del secondo posto, accontentare si fa per dire, con 40 centesimi di ritardo. A questo punto il primo, il quarto e il quinto si stanno giocando, credo sia la coppa di specialità che la coppa generale che sono appunto Zulcic, Pinturo e Odermatt, con Pinturo che se non erro è davanti a tutti o forse Zulcic l'ha risorpassato. Comunque si stanno giocando la coppa. La classifica finale vede appunto Zulcic al primo posto, Faevra al secondo, Breinsteiner al terzo, Pinturo è quarto, Odermatt è quinto, Feller è sesto, Favreau è settimo, Mediard è ottavo, Adaline è nono e Svarts è decimo. Per quanto riguarda gli italiani, sedicesimo della vita che recupera ben 12 posizioni, ventiduesimo è Borsotti che ne perde cinque, diciottesimo è Deali Prandini che ne perde tre, ventisettesimo è Zingerle che ne perde una e ventottesimo è Tonetti che ne recupera due. Andiamo a vedere tra prima e seconda manche quello che è successo. Dopo la prima manche, Kranic era decimo e ahimè non è né dieci. Feller era nonno e recupera tre posizioni e finisce al sesto posto. Mediard era ottavo e finisce ottavo. Smith era settimo ma ahimè termina anche lui fuori dai dieci. Odermatt era sesto e recupera una posizione e quinto, anche grazie a Christopher che ha sbagliato gara. Breinsteiner era quinto e Libidine va sul podio terzo posto, primo podio penso per lui. Fevre era, no Zuccic era secondo, Pinturò scusate, Pinturò era terzo e finisce al quarto posto perché aveva detto, no mi ero fermato a Breinstein e l'ho fatto giù un macello allora Breinstein era quinto e va sul podio Libidine. P. Christofferson era quarto e finisce diciottesimo perché gliel'hanno gufata. Pinturò era terzo e finisce quarto. Zuccic era secondo e vince la gara, Fevre era primo e termina al secondo posto. Detto questo ragazzioli io vi saluto, vi ringrazio. Con lo sci per oggi abbiamo concluso. Nella nottata di stasera dopo la diretta probabilmente farò le altre due gare di domenica in modo che così le preparo e le faccio subito martedì in modo che mi alzo quando mi alzo i miei orari, visto che comunque faccio delle mattinate, faccio subito le due gare nella giornata di martedì e poi vediamo se farò il campionato francese. Adesso devo andare a vedere come siamo messi con le schedine e bollettine del gigione per vedere se martedì ci sono partite di qualche campionato o se no vedo, vedo un attimino tra oggi e domani di farvi schedine e bollettine perché se giocano praticamente al mercoledì è inutile che faccio le corse oggi se fanno tre partite, vi faccio solo la schedina e bollettina nelle partite di martedì e poi martedì con comodo vi faccio schedine e bollettine per mercoledì e giovedì. Detto questo vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo questa sera alla diretta del gigione. Ciao!